Viene difficile pensare al futuro perché la grande maggioranza della gente non solo è oppressa dal timore di questa malattia che colpisce tutti ma in particolare i più anziani ma è anche costretta a fare i conti con la crisi che sta sviluppando e che in un territorio precario come quello della Locride ovviamente non lascia intravedere via d'uscita. E però viene da pensare proprio in questo momento difficile di tornare e di parlare d'attualità della vecchia aspirazione della Locride cioè quella dell'applicazione della ZES, la zona economica speciale e fuori dubbio, ammesso che si possa applicare perché le resistenze non mancano, che potrebbe essere un vero tocca sano per tutto l'intero territorio. Infatti i sindici della Locride su un argomento di così grande importanza dovrebbero esercitare la loro pressione e rivendicare con ogni sforzo la possibile applicazione della ZES nell'intero territorio locrideo. L'importanza di questo strumento economico e sociale potrebbe portare ad uno sviluppo della Calabria e significatamente della Locride che in questa Calabria è certamente l'anello più debole. La questione ZES fu già sollevata in passato tant'è che in tempi progressi nella Locride non sono mancati convegni e incontri per mettere a fuoco l'importanza di questa istituzione. C'è stato anche l'ex consigliere regionale Canderoli in Balzano che ha seguito da vicino il delicato programma e ha sottolineato che l'esclusione della Locride in particolare delle zone a destinazione industriale della ZES non ha trovato sicuramente alcuna giustificazione. Non bisogna dimenticare che sul territorio insiste ad esempio il porto di Roccella Ionica incredibilmente escluso dalla ZES tant'è che il nuovo concetto di ZES individua proprio zone di paese collegate ad un'area portuale destinata ad importanti benefici e semplificazioni amministrative naturalmente tendenti così a consentire lo sviluppo di imprese già insediate o che si insedieranno nel territorio con l'obiettivo di attrarre investimenti anche da parte estera di varia natura. Ed è pure il caso di ricordare che assieme alla presenza del porto l'intero territorio della provincia Ionica da melito a monasterace abbonda di interessi culturali turistici e sociali che hanno solo bisogno di una giusta spinta per diventare attività produttive. Con gli effetti attuali e negativi che certamente si porterà presso il coronavirus, il territorio già compromesso e in ginocchio non guasterebbe che qualcuno immaginasse l'istituzione di questa nuova opportunità ma la politica naturalmente è attenta e speriamo che questa volta colga l'occasione.